Buona giornata, sono Pietro Fiocchi, Presidente della Fiocchio America, questo è un momento molto importante per noi perché festeggiamo 140 anni, la ditta ovviamente è di proprietà di una famiglia Fiocchi, io sono quarta generazione e abbiamo già la quinta generazione che arriviamo e siamo molto fieri di questo accomplishment che abbiamo ottenuto con il duro lavoro e soprattutto con la penetrazione in questo mercato americano che è un mercato molto difficile. Per quest'anno se qua lo show show abbiamo alcune novità, quella più importante sicuramente è un nuovo calibro che nelle cartucce da caccia tiro è una roba che non vedevamo da tanto tempo, abbiamo prodotto il 28-3 pollice o 28-76 o magnum, in collaborazione con la Benelli che ha appena presentato durante lo show show il fucile Ethos che è un fucile bellissimo, andate a vederlo perché è fenomenale, leggerissimo e le cartucce sono veramente belle, ci siamo divertiti a spararle con il fagiano, con la tortora, con quello che volete, ma veramente questa è un'alternativa al 12 più leggera e meno importante da portare in giro, per cui ve lo consiglio e questa è una grande cosa. L'altra grande novità che abbiamo, stiamo facendo una linea specifica per i 3 gun match e in particolar modo, che è una cosa che abbiamo solamente noi, abbiamo il dummy, che è una cartuccia inerte che serve per fare le simulazioni di ricarica dei fucili e poi abbiamo una cartuccia con una slug sottocalibrata, colorata, tra l'altro con il colore della bandiera americana perché abbiamo il bianco, il blu e il rosso, per le gare di 3 gun match e su questo stiamo avendo un grosso successo.